Amici sportivi buonasera, un saluto da parte di Palo del Genio, benvenuti all'appuntamento con il Napoli su Telecapri, maltempo al centro-sud perché il Napoli sta per fare il primo acquisto, scherzo ovviamente, ma è vicinissimo l'acquisto del difensore che tanto aspettavamo e sta per arrivare dal Brasile, ma non è il nome che circolava l'altro giorno ma un altro, è Nathan che è un giocatore 22enne che gioca nel Bragantino, che è una squadra che fa parte della famiglia della Red Bull, cioè l'Ipsia, il Salisburgo e hanno una squadra anche in Brasile, in questo momento, pronti a correggervi i colleghi che sono con me in trasmissione, è sesto nel campionato brasiliano che è in corso di svolgimento, quindi è un giocatore in piena attività, un giocatore tra i più promettenti dicono in Brasile Under 23, io non posso smentirmi stasera, innanzitutto dovete fidarvi molto a questo punto di noi perché vi ho detto lasciate perdere tutti i nomi che circoleranno e che faranno circolare, il Napoli ne prenderà uno che nessuno conosce, e va bene, può darsi che è andata così, può darsi che il Napoli non è riuscito a prendere quelli che voleva e alla fine ha ripiegato su questo giocatore, però la mia posizione storica è sempre la stessa, quando li prende sconosciuti o semi sconosciuti di solito li ingarra il Napoli e quindi speriamo che anche stavolta sia riuscito a farlo, questa diciamo è la probabilmente buona notizia perché il ragazzo è promettente, poi vediamo se si adatta subito al calcio italiano, questo sì perché lì il calcio è molto diverso, ci sono più spazi in impostazione per i difensori, lì ho un bel mancino, sventaglia, cambia gioco, lì ho un mancino, cambia gioco molto spesso sull'out di destra per intenderci, è uno che andrebbe a imbeccare Lozano e Politano con dei cambi gioco di 40-50 metri abbastanza precisi, è bravo anche interventi in velocità non è male, in scivolata, però quando è imposta, quando fa questi lanci ha di solito 10 metri davanti a sé perché lì il pressing degli attaccanti in Brasile non sanno tanto che cosa sia, e quindi si deve abituare al calcio europeo dove oramai sempre un attaccante, riferimento uomo su uomo viene a prendere il centrale, c'è tutt'un'altra, ci sono tutt'altri tempi di gioco per uscire. Speriamo che questa sia la buona notizia, quella negativa è negativa, c'è poco da fare perché anche sa il problema è abbastanza serio e quindi dovrà stare fermo per un po' di tempo, ora non farà più il ritiro, si inizierà a curare le terapie, è una distrazione muscolare al soleo e quindi di primo grado se non vado errato, e quindi non voglio fare io questo perché non lo devo fare, però diciamo che sicuramente salta le prime due giornate, poi la speranza potrebbe essere con la Lazio perché c'è anche la sosta, ma le prime due le salta sicuramente, quindi che cosa succede? Chiudo e presento gli amici che faranno la trasmissione con me, che cosa succede? Che il Napoli aveva bisogno di due centrocampisti, adesso ha bisogno urgente di centrocampisti perché ne sono rimasti tre soltanto, Gretano non è pronto, Foloruscio andrà via sicuramente, non è che possiamo andare con Colissacò con Foloruscio, quindi in questo momento sono rimasti in tre, Elmas, Lobot e Zielinski sono rimasti in tre e non sono nemmeno un vero e proprio terzetto perché due dei tre sono mezze ali offensive, per Paolo Matrone ciao, buonasera. Ciao Paolo, un saluto a tutti i telespettatori, se vuoi vi diamo anche subito i dettagli della trattativa per Nathan, a fare chiuso praticamente 10-11 milioni l'esborso economico da parte del Napoli, il giocatore classe 2001 l'hai presentato tu perfettamente, nei prossimi giorni dovremo accoglierlo anche qui a Castel di Sangro per la firma sul contratto, il contratto che dovrebbe essere quinquennale. Guido Caglione, ciao. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Antonio Noto con noi. Ciao Paolo, buonasera a tutti i telespettatori. Allora vi ricordo i numeri 393-1414-143 per le telefonate, 345-600-2947 per i messaggi e possiamo subito iniziare ad interagire con il primo amico che ha preso la linea. Pronto, buonasera. Pronto? Sì, ciao, buonasera, è il tuo nome? Ciao, sono Luigi da Napoli, un saluto a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare una domanda relativa al nuovo acquisto del Napoli. È chiaro che non è un sicuramente, purtroppo lei del Napoli non fa questo genere di acquisti, lo sappiamo. Da tifosi, almeno personalmente, sono contento dell'acquisto, la luce di quella che è la storicità del Napoli. No, può essere un colpo, se vogliamo, non dico simile a quara come profilo, però potenzialmente può essere così. La domanda che ti faccio è questa. Alla luce però del costo del giocatore, possiamo, tra virgolette, pretendere qualcosina in più negli altri reparti, sia a livello di acquisti, a parte il centrocampista, ma anche un esterno a questo punto d'attacco. Grazie. Quindi aver comprato un difensore di 10 milioni, magari potenzialmente, è forte, lo speriamo. Però poi, chiaramente, negli altri reparti, c'è un bianotto. Sino in più, se avessi preso, per dire, da 30-40, allora prendi questo, prendi il centrocampista e magari sei a posto. Però, per la spesa del Napoli, per quanto venduto lì, per gli idroni che comunque sono entrati dallo scudo e dalla centrocampista, secondo me, un qualcosina in più a questo punto si deve fare anche in altre reparti. Grazie, grazie. Grazie, condivido molto, soprattutto per il centrocampista che adesso deve venire a prendere il posto di Anghissà, perché fino a ieri si reclamava un vice Anghissà, perché Anghissà sarà fermo, non ci sarà un mese quando ci sarà la Coppa d'Africa, intanto sarà fermo un mese, speriamo un mese, non di più, adesso. Quindi coinvolgerà le prime giornate di campionato, come dicevo prima. Quindi un acquisto a centrocampo importante, ma pronto, subito, per andare in campo e fare il titolare a Frosinone, col Sassuolo, e Napoli lo deve fare nei prossimi 3-4 giorni, perché va bene che una volta ti è andata bene con Anghissà all'ultima ora, che un'altra volta ti è andata bene con Kim sotto sotto, diciamo. Però dare un po' di tempo ai giocatori per inserirsi in un gruppo è sempre meglio, parliamoci chiaro. Poi fenomeni, Kim e Anghissà sono riusciti a fare subito bene, però diamo un po' di tempo, ma proprio poco poco, a questo giocatore di centrocampo, quindi non permettere pressione al Napoli, ma perché i fatti, gli accadimenti ora costringono il Napoli a muoversi velocemente per il centrocampista, perché ripeto, e lo dirò spesso stasera, siamo rimasti in tre a centrocampo. Poi si gioca a tre a centrocampo e siamo rimasti in tre, e non sono nemmeno un terzetto, perché Elmas e Zielinski insieme possono farti la partita di sacrificio, uno dei due, tutti e due, però non sono le due mezzeali titolari di una squadra che vuole avere degli equilibri, e quindi bisogna andare a individuare velocemente questo calciatore. Per quanto riguarda invece il giovane brasiliano, io credo che nonostante sia allenato e stia giocando, ci auguriamo che sia un fenomeno e che rubi subito l'occhio di Garzia, altrimenti non penso che possa nemmeno lui per le prime due giornate partire titolare, perché è proprio l'impatto con un altro calcio, non ha mai giocato in Europa, come dicevo prima, qui si pressa sui difensori, ci sono delle cose che devono accadere velocemente per evitare una partenza che potrebbe creare preoccupazioni. Oggi ho scritto un post dove dico non esageriamo, non dobbiamo essere per forza sempre pro e per forza sempre contro, dobbiamo ragionare sui fatti. Ora per esempio si sta criticando tantissimo Rongoni, il preparatore atletico, io non ho elementi a disposizione, oggi ho un numero a disposizione che mi auguro venga però poi presto ridimensionato, quando inizieranno le partite venga ridimensionato. Oggi il numero è il seguente, io non critico Rongoni, non so che cosa è successo, non lo conosco, non capisco niente di preparazione atletica e lo voglio dire proprio sinceramente quello è la mia posizione. Per oggi mancavano 11 giocatori, oggi ne mancavano 11, l'influence, il piccolo risentimento, questo altro problemino, il problema serio di Anghissà, Mario Lui che sta recuperando, mancavano 11 giocatori. Quindi stiamo facendo un ritiro che da un punto di vista della preparazione dovrebbe avere una grande importanza ma con tante assenze, poi tutto si riduce ai 2 contro 2, alle partite 6 contro 6, al calcio tennis di oggi. Pier Paolo. Eh sì Paolo, diciamo che in questo momento la situazione è un pochino problematica dal punto di vista proprio del numero di persone, di calciatori su cui può contare Garzia, tra l'altro su Anghissà, diciamolo, per 30-40 giorni sarà fuori, di conseguenza al Napoli serve con urgenza, come dicevi tu, un centrocampista forte. Sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando. Su Nathan. Su Nathan qualcuno lo bolla già come il nuovo Bruno Uvini, lo ricorderai. Mi ha fatto ridere per questo lo riporto. Ovviamente andiamoci con i piedi di piombo. No vabbè, credo che scherzava l'amico. Ovviamente. Il ragazzo è considerato molto nel campionato brasiliano, anche Uvini aveva fatto le nazionali giovanili brasiliane per la verità, se vogliamo. Qualcuna ha presenza col Napoli, poi gioco col Siena se non verrà. Dipende da tanti fattori, poi se un giocatore va bene o va male. La cosa che possiamo dire, Guido, però molto sinceramente è che al Napoli molte volte questa situazione è andata bene, però possiamo dire che il Napoli oggi ripiega in fretta e furia su questo ragazzo perché non è riuscito a prendere Lenormand, Kilman, Danzo e forse anche qualcun altro. Nella scaletta del Napoli oggi ci sarà qualcuno che lo farà, stai sicuro? Guido, che dirà che era il primo obiettivo e l'abbiamo strappato a Real Madrid, ci sarà qualcuno che presto scriverà che l'abbiamo strappato a Real Madrid. Io penso che possa essere molto buono, mi fido del Napoli quando fa queste operazioni, a patto che si racconti la storia com'è e questa è la quarta, quinta, sesta scelta. A me piacerebbe che il Napoli è utopia, è quello che sto per dire, però mi piacerebbe immaginare una dichiarazione schietta, non siamo riusciti a prendere la prima scelta perché magari avevamo un budget, io credo che si acquista la verità, cioè che il Napoli avesse riservato tot milioni di Euro per l'acquisto del calciatore, è stato preso un po' per il collo credo dalle varie società che detenemono i cartellini dei vari Kilman, Danzo eccetera eccetera, il Napoli chiaramente non aveva intenzione di spendere quel budget, ci sta, io non critico questa scelta, ci sta perché ha sempre dimostrato di saperci fare. Poi soprattutto come diceva l'amico prima può darsi attenzione sui soldi, non tiriamo conclusioni, o ha incassato 50 da Kim e ne spende 10, fai che sta per prendere un centrocampista molto forte e sulla difesa voluta. Ma anche se non dovesse farlo, io rispetto la scelta del Napoli, l'importante è che arrivi un calciatore valido, non mi interessa che sia la prima, la terza, la quinta, non mi interessa. Che la cifra nemmeno spesa. E nemmeno, quindi mi piacerebbe proprio che fosse detta questa cosa. Detto ciò, il calciatore io non lo conoscevo, sono andato a studiarlo chiaramente appena è venuta fuori la notizia, concordo con l'analisi tua, vediamo, è un calciatore che comunque proviene da un altro tipo di campionato. Quello che mi fa piacere è che comunque hai citato prima la Red Bull e quello credo sia un bel segnale, perché difficilmente la Red Bull poi individua calciatori. Però io non lo so, non lo so tanto sinceramente, perché di solito la Red Bull quando ha appunto questi club satelliti, se il calciatore se lo prende, se lo tiene, lo manda al Salisburgo che poi lo manda all'Ips, però è quello, il giro è quello. Sì, per noi il calciatore è ancora giovane, quindi può darsi che sarebbe stata quella la strada e noi abbiamo anticipato. No, però il giro è quello che ha detto Pierpaolo, è Salisburgo, l'Ips, è la società satelliti, però insomma noi non dobbiamo giudicare, dobbiamo aspettare che cosa ci dirà il campo, probabilmente sarà un inserimento graduale, lo prenderà sotto la sua ala protettrice Juan Jesus, che è brasiliano, è esperto, lo farà crescere, gli farà capire come si difende in Italia e speriamo che il ragazzo faccia in fretta, perché poi abbiamo bisogno di subito, a settembre inizia pure la Champions, abbiamo subito bisogno anche di fare rotazioni. Parola che uso, ricorgendomi da Antonio Noto, perché quest'anno mi sa tanto che avremo più rotazioni anche in difesa, perché non c'è più la coppia inattaccabile, inamovibile Racamani Kim. Sicuramente adesso con l'assenza di Kim ci sarà più rotazione, Osticard avrà più minuti, vedremo adesso lo spazio che si ritaglierà Nathan, che vedremo soprattutto all'inizio, come hai detto giustamente tu, sarà difficile al primo impatto con il nuovo calcio, andare a giocare in un nuovo continente, con un nuovo tipo di calcio, dovrà adattarsi un po' all'inizio, quindi sicuramente non partirà titolare nelle prime partite, ma entrerà partita in corso. Però almeno lo vedremo a Castel di Sangro, questa già è una notizia positiva, perché a un certo punto fino a ieri pensavamo che il nuovo acquisto non l'avremmo visto neanche qui, invece domenica, lunedì dovrebbe arrivare proprio in ritiro per la firma sul contratto, quindi quantomeno per 5-6 giorni proveremo a studiarlo, tra virgolette. Tra l'altro a Castel di Sangro, ribadiamolo, facciamo a tormentone ragazzi, Castel di Sangro dovrebbe arrivare anche il centrocampista, perché siamo veramente contati a centrocampo, adesso si è parlato tanto del difensore perché era stata liberata la casella, a questo punto il difensore è arrivato, poi vediamo quando sarà pronto, quanto sarà forte e siamo tranquilli, non diciamo più nulla, auguriamoci il meglio, ma i centrocampisti mancano ragazzi, in questo momento è proprio difficile, i centrocampisti si fanno le sostituzioni, non possiamo iniziare una stagione con tre centrocampisti, tre, veramente è urgente almeno uno, ma io direi due nel giro di 4-5 giorni e qui non lo so se il Napoli in questa direzione si sta muovendo perché come abbiamo detto nelle precedenti serate sui centrocampisti c'è stato un silenzio totale, perché se per i difensori si sono sbizzarriti gli esperti di calciomercato facendo 40-50 nomi e non azzeccandola, manco stavolta perché è uscito il 51esimo dopo che hanno fatto 50 nomi, poi dicono che io sono, che critico, ma non è colpa loro, solo non abbiamo avventurato a fare i nomi perché il Napoli fa percorsi tutti i suoi e quindi è inutile sparare i nomi, ora non spariamo i nomi ma speriamo che arrivi presto un colpo a sorpresa o due colpi a sorpresa per il centrocampo perché lì stiamo inguaiati ragazzi, bisogna dirla così per essere chiari, stiamo rovinati numericamente e anche come caratteristiche per combinare il terzetto, vediamo chi c'è in linea, pronto, buonasera. Luca, Paolo, buonasera. Ciao Luca. Ho saluto il Paolo e il Guido. Ciao Luca. Buonasera. Allora, io sono, diciamo, per il centrocampista, Paolo, io, diciamo, sarei per Coppa Miners perché può ricoprire, diciamo, due ruoli e poi ci darebbe anche le garanzie, puntare tutto sul centrocampista, visto che abbiamo perso il difensore che, secondo me, diciamo, è un ottimo, diciamo, in Brasile è il migliore anche il 23, avendo, diciamo, 22 anni e, diciamo, ne parlano molto bene, ha giurato anche col Flamenco e poi mi piace perché Mancino può fare i cambi, diciamo, di gioco, dalla sinistra verso destra, più facilmente rispetto a un destro. Al centrocampo io vedrei bene Coppa Miners, Bendel, il brasiliano che gioca nello Zenit, Amarabat e lo Certo e insieme a Sumare che aveva accettato Pierpaolo e poi se vogliamo prendere un esterno a sinistra, un vice Kvara, mi vedrebbe bene, Ossolini oppure Zegrova che gioca nel... Gioca a destra. Oppure, diciamo, l'Oriente che gioca nel Tassuolo. Grazie, Luca, grazie. Perché poi, diciamo, per l'esco siamo completi. Grazie, 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 Luca, grazie. Luca ogni sera ci fa l'elenco. Sì, sì, sì. Allora, andiamo per ordine un attimo. Coppa Miners è venuta fuori negli ultimi giorni, è tornato in auge il nome di Coppa Miners. Personalmente me la bollano come cavolata la notizia riguardante un'offerta già fatta dal Napoli. Il giocatore piace, sicuramente, anche perché il Napoli lo seguì... A chi non piace il punto uno, poi il Napoli lo seguiva quando ancora giocava nella Zed, quindi sicuramente piace. Il problema è che l'Atalanta non ha bisogno di cedere perché oggi è arrivata la firma sul contratto con il Manchester United di Oilund, oltre 80 milioni di euro guadagnati. Ha soltanto tre centrocampisti centrali, Ederson, Derun e Coppa Miners, e ne gioca con due, quindi di conseguenza anche lì, anche numericamente, ha bisogno di Coppa Miners. La valutazione supera i 40 milioni di euro. Era 40 milioni di euro prima della cessione di Oilund, con la cessione di Oilund è anche più alta. Quindi diciamo che Coppa Miners è molto complicato, diciamo così. Noi vogliamo dire che non arrivi, però è molto complicato. Su tutti gli altri nomi, sono nomi che sono già stati fatti, abbiamo già detto tutto, diciamo che non ci sono novità da questo punto di vista. Sul centrocampista proprio non ci sono novità e questo, come hai detto tu, è un problema. Io dico che noi dobbiamo essere fiduciosi, oggi lo scrivevo, so che tu eri d'accordo, dobbiamo essere fiduciosi perché questa società ha dimostrato poi di avere delle risorse, quando meno te le aspetti per venire fuori da momenti di difficoltà. Dobbiamo essere ancora euforici per la vittoria dello Scudetto, non dobbiamo essere o pro o contro, ma dobbiamo ogni volta ragionare sui fatti. Nessuno però ci può togliere la possibilità di parlare e di dire che siamo un po' preoccupati per tutti questi infortuni e per qualche ritardo di mercato con i centrocampisti e con i difensori, tant'è vero che poi abbiamo dovuto fare un colpo a sorpresa quasi all'ultimo momento. Quindi un po' di preoccupazione è legittima. Poi il Napoli sono dei maghi, gli va tutto bene, noi siamo le persone più felici del mondo. Però un po' di preoccupazione penso che non sia sufficiente quando si esprime un po' di preoccupazione e bisogna uscire da questa che ho definito una stupidaggine clamorosa, che appena uno esprime un po' di preoccupazione vuol dire che è contro. Appena uno dice che però sei fiducioso e arrivano quelli lì che sono contro che ti dicono no sei troppo pro, non c'è niente da essere fiducioso. La vogliamo finire cari amici tifosi che sapete quanto vi voglio bene perché con voi ho campo, con i tifosi ho campo, a me non mi aiuta nessuno. Sono i tanti tifosi che mi seguono, che sono la mia forza e perciò le radio e le tv mi prendono perché ho tanti tifosi che mi seguono. Quindi figurate se mi metto a criticare i tifosi. Però quelli lì che hanno deciso di schierarsi, sappiate che io sono contro di voi. Gli schierati pro e gli schierati contro per me fanno una stupidaggine incredibile. Quelli che provano a ragionare su tutti i fatti e qualche volta sono felici, sono fiduciosi, sono ottimisti però qualche volta si preoccupano, mi sembrano quelli più intelligenti se mi consentite questa osservazione che so che Guido condivide. No, io aggiungo che secondo me la rovina è stata l'introduzione in questo mercato della figura del giornalista tifoso. Il giornalista tifoso per me non esiste, nel senso che ognuno di noi conserva la passione. Durante la partita, segna il Napoli, siamo contenti, è chiaro. Però se uno fa il giornalista non deve fare il tifoso, cioè non esiste essere sempre a favore oppure essere sempre contro. Il giornalista dovrebbe, per essere fedele a quella che è la deontologia del proprio lavoro, raccontare le cose come stanno, farci un ragionamento e fare, se necessario, delle analisi critiche. Questo è il lavoro del giornalista. Se poi uno dimentica questo e segue la figura del giornalista che fa il tifo sempre e comunque quello non è fare il mestiere del giornalista, così come non è fare il mestiere del giornalista quello che va sempre contro, a prescindere di Maria Precostituita. Oggi dire che il Napoli, facciamo un esempio sul preparatore atletico Guido, oggi dire che questo preparatore atletico sarà la rovina del Napoli, è prematuro secondo me, è prematuro. Ora ci sono dei segnali negativi, ma è prematuro. Quindi io non dico nulla sul rongoni, non dico nulla. Aspetto come giusto fare la media infortunati su un numero elevato di partite. Se nelle prime 15 giornate noi teniamo la media... ...quattro... ...e la clausola... ...su dei dati, su dei fatti e quindi uno trae delle conclusioni. Adesso c'è chi dice che è tutta colpa di questo preparatore, è prematuro. C'è chi dice che sono tutti infortuni leggeri e non ci sono problemi ed è sbagliato pure quello perché poi invece anche chissà l'infortunio è serio e quindi... Sono sbagliate entrambe le posizioni, assolutamente. Antonio? Sì, è così. Anche Mario Rui, dobbiamo ricordare, l'infortunio è un'altra distrazione di primo grado. È solo ieri iniziato a correre di nuovo sul campo. Quindi vediamo un po' adesso, soprattutto con l'inizio del campionato, come andranno ad evolversi questi infortuni. Ma sicuramente un po' di preoccupazione c'è. Poi dobbiamo ricordare anche che alla Roma fu criticato Longoni proprio per la preparazione degli infortuni muscolari. Con quale allenatore? Sempre con Garzia. Ah, tanti anni fa con Garzia. Va bene, c'è questo precedente che è lontano, poi l'avrà portato in giro per altre parti, avrà avuto altri risultati. Se vogliamo fare questo tipo di indagini la dobbiamo fare sui 7, 8, 10, non so quanti anni che Rongoni ha collaborato con Garzia. Allora Garzia o è pazzo, è masochista, è autolesionista e si porta uno e gli fa fare male tutti i giocatori, o terrà altri feedback. Questo vuol dire essere prevenuti. Oggi, con tutti questi infortuni che abbiamo noi, hanno evidenziato questo precedente di cui parlava Antonio, di Rongoni alla Roma. Può darsi che poi tutti gli altri anni è stata la squadra con meno infortuni. Non è successo niente, però oggi nessuno lo riporta. Non possiamo prendere una cosa, o le prendiamo tutte e facciamo un quadro. E certo, altrimenti si carica una posizione perché si vuole caricare quello. E si trova sempre nelle carriere lunghe, sui giocatori, sugli allenatori, anche sul nostro presidente. Diciamo sempre che il nostro presidente sta facendo un percorso eccezionale a Napoli, ma ci sono state stagioni, stagioni di mercato negative. A cui si sbaglia, il che non va a inficiare il lavoro generale, però se noi oggi vogliamo strumentare, come si è fatto per esempio con Giuntoli. Giuntoli ha fatto grandi acquisti e quelli lì che la volevano rimpiangere hanno citato i nomi dei grandi acquisti. Quelli che lo volevano criticare hanno incominciato a fare l'elenco di quelli lì che poi non sono andati bene. E nessuno dei due casi si è fatto un'informazione corretta. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto, Paolo? Sì, buonasera, ciao. Buonasera, Paolo. Sono Paolo da Torino, un paolo di tutti e quattro. Grazie. Buonasera. Volevo chiederti di parlare più o meno sull'aspetto tattico della squadra. Lo so che tu con Kvara Scala la vuoi di più sull'esterno sinistro, però avendo soprattutto in questo precampionato il Simeone e i Raspadori che fanno giocando molto bene, non lo vedi come trequartista e far giocare lo due punto pure come è stato sospeso per questo nuovo inizio di campionato? Non lo vedo, non lo vedo. Lo sai, non lo vedo. Non ho cambiato idea. Solo una cosa mi potrebbe far cambiare idea che Garzia decide di metterlo trequartista, lui fa dieci grandi partite e cambio idea. Per il momento ho un'idea che si basa su una caratteristica del calciatore. Io almeno la vedo così, può darsi che sbaglio. Io penso che lei è un giocatore che si accende col palco. Pensate a Kvara Scala. Prima di fare questa domanda ti invito a pensare a Kvara Scala. Kvara Scala è un giocatore che improvvisamente lo vedi attaccare la profondità, venire incontro per farsi dare il pallone. No, sta lì nella sua posizione. Appena ha il pallone tra i piedi si accende. Quindi il pallone tra i piedi, domanda che faccio io a te, lo può avere più volte se gioca esterno, in ampiezza, con la possibilità con un cambio gioco di servirlo o lo può avere più volte se si va a giocare in quella zona intasata fra le due linee centrocampo e difesa avversaria dove tu lo volevi ipotizzare come posizione? No, lo dicevo pure per il fatto che il sud esterno e il destro stavo un pochettino in difficoltà con la situazione... Ma tu lo sai che vai a toccare? Vai a toccare automatismi ed equilibri consolidati che ti hanno fatto fare 90 punti, perché noi 90 punti li abbiamo fatti grazie ad alcune straordinarie individualità. Però il movimento di Di Lorenzo... No, ti voglio dire queste cose semplici. Il movimento di Di Lorenzo che entra dentro, se vai a rivisitare il modulo con le due punte e Kvara Scala alle spalle, è un movimento che fai fatica a fare, perché quella posizione di mezzo che Di Lorenzo va a cercare. La va a cercare perché c'è la mezzala che va dall'altra parte, anche se ci fai caso se ne va dall'altra parte a sinistra, il politano Lozano se ne va in ampiezza e si libera quello spazio e lì in mezzo che Di Lorenzo va a attaccare. Come la disegni tu? Non c'è più quello spazio. Di Lorenzo deve coprire per forza la fascia perché non avrebbe l'esterno alto davanti. Non so se sono riuscito a essere chiaro. Mi piacerebbe, mi incuriosirebbe magari nel precampionato. Ma nel precampionato che ti vuoi incuriosire? Qua nel precampionato, Dio stavamo a Ronno Vero, come riusciamo a fare un allenamento? Oggi con la Raschelia non c'era, eccetera. Va bene. Grazie, grazie per il tuo intervento. Grazie. Pierpaolo. Paolo, ci sono tanti messaggi di haters verso di noi oggi. Dicono che siamo un po' troppo critici. Vabbè, non me ne frega niente di questa gente. Basta che si legge il mio posto di oggi. Io sono critico verso quelli che, come loro, vorrebbero tutto a favore. Se da questo momento io mi metto a dire che il Napoli è perfetto, che De Laurentiis è il miglior presidente della storia del calcio da quando esiste il calcio, arrivano gli haters che mi dicono che io sono troppo favorevole. A me non me ne frega niente di questi qui che vogliono pensare che uno è pro o è contro. A me me ne frega delle persone intelligenti che riescono a capire che io sono tifoso del Napoli, ma non necessariamente devo dire che ha sempre ragione. Il Napoli però è una società che lavora molto bene. Se voi, caro amico haters, cari amici... No, non è solo uno. Cari amici haters, col cucchiaino ve la prendo, perché con voi ci vuole il cucchiaino certe volte, ve la dico col cucchiaino. Io sono molto fiducioso perché questa società ha delle risorse incredibili. Però raccontando i fatti adesso c'è un pizzico di preoccupazione. Vi sembra, razza di imbecilli, la posizione di uno che è contro questa? Vi sembra la posizione di uno che è contro? No, ditemelo. Se vi sembra la posizione di uno che è contro, scrivetelo un'altra volta. Io dico che sono fiducioso, che mi fido di De Laurentiis, dei colpi di genio che fa alla fine e tutto. Però in questo momento ci sono degli elementi di preoccupazione. Se non li posso dire, perché quattro scemi mi scrivono che io sono contro, non me ne frega niente di voi. Paolo, altro messaggio di Salvatore Danaceri Inferiore. Con l'acquisto di Nata dobbiamo aspettarci Ossigar titolare alla prima di campionato? O Ossigar do one Jesus. Più Ossigar do one Jesus, chiedono. Non lo so ragazzi, che ne so. Io a Garzia l'ho visto mezza volta, non l'ho capito proprio. Io ci ho messo un anno e mezzo, io sono lento nelle mie cose, però poi quando arriva alle conclusioni, qualche volta indovino. Io ci ho messo un anno e mezzo per capire a Spalletti. Quando ho capito che lui aveva capito tutto quello che doveva fare, aveva portato delle modifiche e sono diventato il primo tifoso di Spalletti. Mentre ammetto di essere stato abbastanza freddino nel primo anno con Spalletti. Non critico, ma freddino, perché alcune cose non mi piacevano. Ci sono state delle partite che ci ricordiamo che ci hanno fatto un po' avvilire. E poi il secondo anno ha messo mano a tante cose, è stato fantastico. E proprio perché non viviamo di preconcetti abbiamo riempito di elogi Spalletti. Oggi, proprio perché non vivo di preconcetti, su Garzia non inizia a dire niente. Può darsi che il primo mese ne parlerò benissimo e poi mi ricredo. Può darsi che il primo mese mi deluderà e poi mi ricredo. Dobbiamo fare così, ragazzi. Dobbiamo fare così. E mi interessa solo delle persone intelligenti che capiscono che io faccio così. Seguo i fatti e seguo gli avvenimenti. Degli altri che per forza, per limiti loro, come si diceva, c'era una volta un comico che diceva questa cosa, mi sembra Luttazzi si chiama, no? Sto comico è il panodolto da mezzo. Dice, per venire incontro alle vostre facoltà mentali, quest'edizione del telegiornale andrà in onda in forma ridotta. Io non la voglio ridurre la forma della mia trasmissione. Perché ci sono tante persone intelligenti che mi ascoltano. E quando mi ascoltano, mi ascoltano non come voi, che essendo limitati vi dovete mettere nella categoria pro o contro. Per me non ha nessun senso il vostro giudizio. Perché il limite è che voi siete rimasti alle elementari, buoni e cattivi, pro e contro. Siete rimasti alle elementari. Non c'è stata un'evoluzione intellettiva da parte vostra. Allora, chiedono ancora su Nathan. Secondo voi il Napoli per andare su Nathan è perché è rimasto con il cerino in mano? Non posso credere che ci hanno messo tre mesi per prendere un difensore a 10 milioni. Poi quando vuoi c'è anche il telefono. Sì, allora, io dico, no, non lo so. Può darsi caso a qualcuno, alcune cose non sono andate bene. Qualcuno può pensare, ma tu dici così, non ti metti paura di inimicarti il tuo pubblico. Non mi metto paura a niente. Io qui per fortuna, Guido, Pierpaolo, Antonio l'hanno visto, faccio qualche autogrofe, poi gli autogrofe non si portano più. Faccio migliaia e migliaia di foto, i tifosi mi dicono se è il migliore, se è il più... Non lo dovrei dire, ma lo dico. Se è il migliore, se è il più bravo, se è l'unico che seguiamo, se è quello che ne capisce di più. Quindi io sono pieno di gente che ne capisce. Quegli altri là non li voglio. Dice, ma tu così li respingi? E li voglio respingere. Non li voglio, che seguino le mie trasmissioni questi qui. Che ci devo fare? Non li voglio. Ne tengo talmente tanti che posso permettermi il lusso di respingere qualche ascoltatore. Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera, Papo. Sono Salvatore da Napoli. Ciao, Salvatore. Complimenti sempre perché voi fate, a differenza di altri, fate la vera cronaca. La vera cronaca, quella che si deve fare e non sparate balle come sto sentendo in varie trasmissioni. Quindi complimenti a tutti. Grazie. Grazie, grazie. Poi, in merito, Paolo, ai centrocampisti, io ti vorrei fare un appunto. Tu hai detto che ne siamo tre contati. Io invece ti dico che ne siamo due e mezzo perché i rischi non hanno ancora rinnovato. No, vabbè, però, insomma... Qualcun altro ci faceva l'appunto invece che siamo in cinque perché ci sono anche Demme e Gaetano. Esatto, esatto. Allora, Demme e Gaetano, Demme è vero, potrebbe esserci, è giusto. Il quarto Demme lo possiamo mettere, ma io stavo parlando delle mezze ali in questo momento, non penso che chi ha scritto questo vuole mettere Demme e Mezzala. Poi se volete mettere Demme e Mezzala. Gaetano lo possiamo mettere Mezzala, ma è infortunato e non ha fatto manco un giorno. Quindi ho parlato dello stato attuale delle cose, che le mezze ali sono Elmas e Zielischi. No, rispondo anche alla tua osservazione. Zielischi, in questo momento non c'è nessuna possibilità più che vada via. Che deve succedere? Via Zielischi, ma veramente vogliamo sfidare la dea bendata in una maniera così clamorosa. Vogliamo partire... In merito a tutti questi infortuni del preparatore atletico, c'è un collega che è un professore di scienze del motore, ho chiesto un po' di informazioni. Allora, lui mi ha spiegato che praticamente Sinatti ha fatto un lavoro sul corto, perché se mi ricordate c'era il mondiale, quindi Napoli ha giocato da settembre... Sinatti ha lavorato anche con... Aspetta però, Salvatore, ridice al tuo amico, che evidentemente poi non so quanto segue il calcio, che Sinatti ha fatto il lavoro sul corto, perché poi c'era il mondiale. Sinatti ha fatto il lavoro anche sul lungo, perché il mondiale c'è stato una volta e Sinatti era il preparatore atletico di Sarri e abbiamo avuto squadre con pochissimi infortuni. Io vi dico un'altra cosa, Sinatti è stato troppi anni a Napoli, io queste cose le posso dire solo io purtroppo e le dico, Sinatti io non lo conosco, è stato troppi anni a Napoli, è bravissimo secondo me, però è diventato molto amico di troppi giornalisti e oggi quindi a me non piace il fatto che, come si faceva con De Nicola, che è un altro mio amico, che lui lo conosco, è un mio amico, si attaccava a Canonico perché si erano amici di De Nicola, adesso si attacca a Rongoni perché si è amici di Sinatti, questo a me non piace e sono l'unico che lo può dire, perché io non me ne frega niente delle amicizie. Io non sto attaccando nessuno, sono solo... No, non dica dica a te, fai il giornalista, sto dicendo ai colleghi che lo fanno. Infatti forse ci sono questi aspaticamenti, perché Rongoni adesso sta facendo un altro tipo di preparazione, perché adesso non ci saranno toglie, non ci saranno mondiali. Ma io la dico su una cosa che noi non sappiamo, ma ci potessimo stare zitti o no? Ci possiamo stare zitti? Io ho chiesto solamente di aspettare, lo devo ribadire, di aspettare le prime 15 giornate di campionato. Se teniamo una media di 5-6 assenze a partita, poniamocelo seriamente il problema. Se teniamo la media consueta di 1-2 assenze a partita, vuol dire che siamo nella norma. Possiamo fare questo? Oggi siamo dei giudici che dobbiamo sentenziare. E che cavolo. Ciao, grazie. Paolo, l'ultima chiudo. La percentuale di Ossimeni che resta. No, ne parliamo dopo la pubblicità. Ne parliamo dopo la pubblicità. Com'è domanda? Ernesto, caro Paolo, compagnia continua del tuo 442, volevo dirti, questo immobilismo attuale, già vedo un poco in giro, si avvertono i malumori, adesso ci sta questo Nathan, questo brasiliano che viene accusato, il Presidente, che costa qualcosina in meno di quell'altro brasiliano. Al di là di tutto, un tuo giudizio spassionato, perché tu sei così, e io pretendo una risposta spassionata. Su Nathan? No, 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 Giocino che non lo conosci. Sullo spadambio? Il problema è questo. Qual è la domanda sul fatto che hai risparmiato? No, a parte questa, vabbè, non giudico. A me non mi frega niente quando posto il cartellino, perché la storia del Napoli è piena di cartellini pagati tanto che sono andati male, di cartellini pagati pochi che sono andati bene. Poi dopo Kim e Quaraschelia, assolutamente meritano di averlo finito. Aspetta, aspetta, ora ci vogliono gli Athers che siamo troppo pro, vai, Athers troppo pro mo, vai, scatenatevi. No, ti da una cosa tattica, ma Luca. Ieri sentivo praticamente di poter sfruttare, visto che secondo me Zanoli non va via da Napoli, ho questa impressione, tentare la carta sulla destra, Zanoli esterno destro. Adesso, se lo sbaglio tu dicevi ieri invece al contrario. Alto, alto, esattamente. Allora ho capito quello che vuol dire, Di Lorenzo centrale. Ecco, per visto i movimenti diciamo che faceva Spalletti. Allora, Di Lorenzo è il migliore esterno destro del campionato, non è il miglior centrale del campionato, si adatta perché è molto bravo, si adatta ma non è tra i migliori centrali del campionato, quindi tu prendi un giocatore che è il migliore nel suo ruolo e lo togli dal suo ruolo e lo metti in un ruolo dove se la cava ma non è il migliore, mossa che non mi sembra buona. E Zanoli, siamo sicuri che già è a livello di Di Lorenzo? A me pare proprio di no. Quindi è un cambio che ti peggiore in due ruoli, non la farei mai, in emergenza qualche volta. Un'altra che volevo dirti, questo famoso cruccio Raspadori, esterno, centravanti non lo è e sono minimamente d'accordo con te, esterno destro, esterno sinistro. Ad altissimo livello secondo me. Ma non lo sarà mai probabilmente. Ad altissimo livello, in una squadra se lo mandi a Bologna fa il centravanti titolare, ora che se ne va Arnautovic gioca benissimo lì per intenderci, ma se deve fare il centravanti titolare in una squadra che vuole vincere, che vuole andare avanti tanto in Champions, fai un po' più fatica con Raspadori rispetto a Simeone, Osimen è fuori categoria. A questo punto ci ritroveremo Politano, Lozano e Raspadori, che probabilmente potrebbe essere dirottata a sinistra. Però sia Raspadori che Lozano possono andare anche a sinistra. Grazie, ti saluto. Altra domanda, sempre degli amici, nome e domanda del Paolo. Salve a tutti, buonasera, sono Luca. Allora la domanda è, è più un ragionamento, una provocazione. Se continua questo a mancare un centrocampista, alla luce del fatto che anche in Stano non c'è, che sia una mezzala ma lo possiamo inquadrare anche come un mediano, allora a questo punto dobbiamo iniziare il campionato con il 4-4-2, avendo un'abbondanza di esterni. E quindi aveva, con Lobotka e Zelischi a centrocampo, perché abbiamo tante, un'abbondanza di esterni mezze punte e quindi avrebbe anche senso poi la prova, l'esperimento che aveva fatto Garsia in... Ma io la vedo da... Ma se tu fai 4-4-2 ci deve essere anche sa, e poi scegli fra Lobotka e Zelischi, ma anche sa è quello da cui non si può prescindere se vuoi fare un centrocampo a due. Ma se lo fai con Lobotka e Zelischi, il centrocampo a due, sai che cosa ottieni? Metti in difficoltà tutti e due, che sono due grandi calciatori. E se non abbiamo il centrocampista giochiamo con quei tre e se con uno dei tre si fa male, che cosa facciamo? Con 4-2-3-1 neanche possiamo farlo. Ma guarda, ma il giro della risposta non è molto difficile. Il Napoli deve comprare uno o due centrocampisti nei prossimi tre giorni. Mancano dieci giorni all'inizio del campionato. Li deve prendere, altrimenti il Napoli dice lo prendo più tardi, tanto col Frosinone e col Sassuolo posso giocare con Elmas, con Lobotka e Zelischi e mi tenga a Foloruscio fino al 31 agosto e entra a Foloruscio se c'è qualche cosa. Questa è la risposta che ti può dare il Napoli. Grazie. Grazie mille per la domanda. Andiamo al telefono? Telefono, vai. Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, il tuo nome? Buonasera Paolo, Alessandro. Vai Alessandro, ciao. Allora, io volevo farti un'analisi, dopo mi rispondi. Quante domande su? No, un sacco Paolo. No, allora una alla volta perché qua non ce la faccio. No, perché sennò non ti rispondo manca una, me la dimentico. Una alla volta e ti rispondo. Allora, io ti rispetto e ti stimo come giornalista. Fai una domanda alla volta. Ok. Vai, prima. Ok, l'anno scorso, prima di vincere lo scudetto, abbassiamo il tiffingage, va bene? Eh. E' tutto a posto. Che domanda è? Non è una domanda. Vai avanti, vai avanti. No, quello mo' si sta sentendo... Eh, va bene, diciamo che va bene perché... Va bene. Abbiamo visto lo scudetto... Quanti... Devi abbassare il volume del televisore. Devi abbassare il volume del televisore, sennò altro che 4-5 domande. Tra poco dobbiamo chiudere. Abbassa il volume del televisore. Eh, ok. Ok, guardi di finale di Champions. Eh, ma guarda, la memoria può avvenire un po' meno, ma queste cose ce le ricordiamo. Vendiamo, vendiamo Kim, vendiamo Kim a 58 milioni. Poi... Arriva la domanda, Alessà, ti prego. Paolo, ti devo dire tutto. Eh, ma non mi stai dicendo niente di nuovo. Tutto quello che mi hai detto lo sapevamo già. Lo scudetto è a Champions, Kim, lo sapevamo già. Vogliamo buttare l'ingazzo a Chialisti, vogliamo abbassare l'ingazzo a Lozano, mamma mia. Allora, è solo un guadagno. È una critica al Presidente. Non ti piace come si sta muovendo il Napoli, ho capito bene, facendomi sudare, ho fatto una passata, qua fa fresco, mi hai fatto fare una surata, potete capire. Ok. Ciao Alessà, un abbraccio. Abbiamo capito alla fine, perché poteva essere, fino all'ottantesimo minuto poteva essere tutto, pro-comocio, pro-contro, poi alla fine abbiamo capito che non ti sta piacendo come si sta muovendo il Napoli. E vabbè ragazzi, ripeto, poi dopo l'importante è quando inizia il campionato. Guido. No, ho faticato come te a comprendere, però alla fine ho capito. No, io ad Alessandro dico, Alessandro si chiama? Sì, Alessandro. No, io dico... Il nome è l'unica cosa che ha magari... No, io lo inviterei a concentrarsi sul finale della storia, cioè io almeno faccio così. Le critiche, le osservazioni di critiche ci stanno, anche io vedo tante cose che possono non piacermi, però poi alla fine dico, ok, questo mondo superantico non mi è piaciuto, a che cosa ha portato? Se ha portato a qualcosa di bello, io dico va bene così. Vabbè, avrete capito che si è scatenato un'acquazione che noi più o meno ce la stiamo calando, però non so se riusciremo perché c'è molto vento. Quindi io farei una cosa, in attesa di sistemarci chiamiamo un break pubblicitario, pubblicità.